Nel corso dell'estate vi erano stati diversi rumors secondo i quali Claudia Mendola si stava per separare da sua moglie. Ho fatto anche un video, se non l'avete visto ve lo lascio qui nel pallino di informazioni. Queste indiscrezioni sono state smentite più volte ma oggi sembra esserne arrivata la conferma. Secondo il messaggero l'attore e la conduttrice avrebbero raggiunto un accordo extra giudiziale con grande serenità e lo avrebbero depositato nelle cancellerie del Tribunale di Roma già dalla seconda settimana di ottobre. Mancherebbe solo l'ufficialità da parte del giudice insomma ma sarebbe ufficiale che Mendola e Francesca Neri non sono più una coppia. L'attore di fede giallorossa peraltro ha avuto a suo fianco lo stesso legale di Francesco Totti, Antonio Conte, mentre la moglie in tribunale ha potuto contare sul sostegno di Paola Frigione.